Tra te e Marra è storica la cosa, no? Tra Santeria, comunque vabbè, dei Doggo, eccetera Il vostro rapporto è proprio di fratellanza E spesso nei pezzi insieme è spaccato di brutto E da qui nasce la grossa domanda dei fans Un Santeria 2, ci sarà mai? Allora, per motivi legali non posso dirlo Certo Però diciamo che posso dire una cosa Diciamo che posso dire che non è escluso Quindi trai le tue conclusioni Fatti una domanda e datti una risposta Ok raga, preparatevi al peggio Preparatevi al peggio